In questi giorni sono usciti vari sondaggi sugli esiti del voto delle comunali a Padova. Molto discordanti tra loro i dati, con l'unica eccezione sui nomi dei due principali sfidanti, Giordani contro Bituonci. Così, per avere dei dati più affidabili, siamo andati sul campo e abbiamo dato un occhio alle presenze dei cittadini all'inaugurazione del punto d'ascolto in Piazza delle Erbe di Sergio Giordani e al punto d'ascolto invia Tiziano Aspetti all'Arcella di Massimo Bituonci. Avendo al massimo 10 punti da assegnare sulle base delle presenze, vincerebbe 7 a 3 l'uscente sindaco Massimo Bituonci, che in casa ha una risposta molto positiva dai cittadini. Nonostante la posizione strategica in una delle piazze più frequentate di Padova, Giordani totalizza più presenze tra i cronisti rispetto agli elettori. Spice in Bar Channel News, Padova.